Ciao sono Bernarda per i Gossipari TV. Lascia un mi piace, iscriviti e attiva le notifiche a campanella. Per noi è importante per mantenere vivo il canale. Veronica Peparini e Andreas Muller, celebri volti di amici, stanno per diventare genitori? Domenica 5 novembre 2023, il palcoscenico di Verissimo si prepara ad accoglierli, forse per la rivelazione più dolce e ad anticiparli è stata una segnalazione sui social. I fan sospettano da tempo, scrutando ogni fotografia e post social alla ricerca di conferme. Il pancino di Veronica, il desiderio di famiglia di Andreas, tutto sembra convergere verso un annuncio che potrebbe scaldare i cuori e infiammare la curiosità di migliaia di seguaci. Veronica Peparini è recentemente finita sotto l'occhio attento dei suoi follower per un dettaglio che non passa inosservato, un pancino sospetto che fa brillare di speranza i fan. L'ex insegnante di amici, già madre di due figli e innamorata del ballerino Andreas Muller, ha destato curiosità e dolci sospetti tra gli appassionati del programma e non solo. Ma ad alimentare queste voci è stata una segnalazione sui social. La segnalazione della presunta gravidanza di Veronica Peparini è arrivata direttamente ad Isa e Kia da parte di una loro lettrice. Ciao ragazze, vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio, abitiamo nella stessa zona. Li becchiamo spesso in giro e l'ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un'impressione. Però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose. Che dite, bebe in arrivo? Ha scritto l'utente ipotizzando che fosse incinta di Andreas Muller. Che dite, bebe in arrivo?